In questo giorno così sorelle, un altro motivo rende più grande la nostra gioia e più bella la nostra festa, la venerabilità delle serbe di Dio Maria e Giustina Schiapparoli, fondatrici delle suore benedettine della mia provvidenza di Modena. Venerabilità, cioè il riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa, della persona di Papa Francesco, che le tue sorelle hanno vissuto da bene e salve, native di Castel San Giovanni e mogheresi di adozione, e proprio qui a Moghera, di 170 anni fa, avevano dato inizio alla loro opera carichiatura, raccogliendo le bambine ormai o abbandonando questa città, fondata così la nostra comprenazione religiosa. Alleluia! 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 Alleluia!